Benvenuti a Cronos appunti da un libro e benvenuta ad Alice Cappagli. Ciao Alice. Ciao a tutti, buona giornata. Oggi di Alice Cappagli parliamo di Ricordati di Bach, edito da Einaudi. Ma prima di parlare del tuo romanzo Alice, parliamo di te. Tu sei livornese e parlando abbiamo capito che come me ami il mare, ma trascinata da una tua passione sei arrivata anche a Milano, perché Alice è laureata in filosofia, ma ha seguito una grande passione, la musica, il violoncello e per, correggimi se sbaglio, 37 anni hai suonato nell'orchestra del teatro alla Scala di Milano, quindi prestigiosissimo. Una grande passione Alice la tua. Sì, d'altra parte questa vita, questo excursus, lo racconto nel libro che è autobiografico. E quindi sì, io ho iniziato col violoncello da piccola, insomma avevo 9 anni, a dire la verità ho iniziato a 8, però poi insomma nel libro spiego cosa è successo, per cui alla fine ne avevo 9 quando ho preso in mano lo strumento e ho capito che sarebbe stato comunque il mio mezzo per comunicare col mondo. All'inizio diciamo quasi per terapia e poi si capirà per quale mondo, poi per passione, per una concomitanza di incontri col mio maestro, con un tipo di scuola, con i compagni che suonavano e condividevano questa passione, insomma ha preso corpo sempre di più dentro di me il desiderio di fare la violoncellista. Certo, infatti in questo libro la musica la fa da padrona diciamo, ma diciamo che tu i due libri che hai scritto giusto sono tutti ispirati alle tue passioni, la filosofia il primo e la musica questo. E diciamo di cosa parla in realtà questo, parla di questa ragazzina bambina, anzi Alice, che è Cecilia, scusami, che poi tu dici io sono Cecilia, quindi è per questo che io scambio i nomi, perché siete la stessa cosa, che dopo un incidente rimane con una menomazione, nonostante questa menomazione il suo carattere fortissimo, anche in contrasto se vogliamo con i genitori, riesce a seguire la sua passione, il violoncello, contrastata un po' dalla famiglia, ma invece supportata dal direttore della scuola, dell'accademia proprio di Livorno e dal maestro, questo smotta, questa figura un po' molto particolare, molto motivante, ma anche molto spregiudicato diciamo. E quindi chi è Cecilia, com'è Cecilia? Tu non la descrivi molto, la intuiamo da quello che dice, da quello che pensa? Si dice fragile fuori, rocciosa dentro. Ma effettivamente siccome, come dicevo, il libro è autobiografico, quindi io non è che potessi più di tanto mettere in scena la mia personalità, perché non è propriamente il punto focale, perché il punto focale è sicuramente l'inizio di una passione, il suo svolgimento, il perseguimento di un obiettivo attraverso un iter di studio, di sacrificio, di costanza, che io ho messo in campo, ho dovuto mettere in campo. Inoltre ho fatto una certa fatica a scriverlo, come tutte le cose che riguardano un po' noi stessi, per cui ho dovuto distaccarmi un po' da me e quindi questo è il primo motivo per cui io mi sono chiamata Cecilia, cioè non ho usato il mio vero nome, e descrivermi guardandomi un po' dall'esterno, forse appunto guardandomi un po' dall'esterno qualche cosa non è evidenziato della mia personalità, del mio mondo e intenzionalmente devo dire non è che fosse un outing il libro, doveva essere qualche cosa che potesse essere compreso dal lettore, quindi le cose che erano più chiare, che erano più lineari, più comprensibili, io le ho potute raccontare con una certa libertà, un certo distacco che ho utilizzato. Naturalmente mi sono rivolta di più alle persone che stavano intorno a me nell'ambito del racconto, quindi i miei genitori, che comunque erano dei soggetti abbastanza particolari anche loro, perché appunto mio padre era un personaggio molto legato al mondo della cultura, per cui a lui piaceva che io studiassi, facessi liceo classico e poi seguissi un iter più tranquillo rispetto a quello che io cercavo di insinuare all'interno della famiglia, cioè voleva che io mi laureassi, magari che io facessi l'insegnante dentro un liceo, insomma quello che facevano loro, che io mi interessassi di letteratura. Certo a me piacevano queste cose, però quello che mi piaceva di più era suonare. Tengo a precisare fra l'altro che la mia laurea in filosofia, siccome come voi avrete capito, io non è che abbia un'età, non è che sono molto molto anziana, quindi non ho avuto tempo di fare il liceo, poi laurearmi in filosofia, poi andare alla scala. Hai seguito il violoncello? Sì, no, beh io a dir la verità come lavoratrice ho iniziato a 17 anni a suonare il violoncello, che è la cosa che poi mi ha consentito di andare in pensione in un momento in cui ancora avevo delle energie possibili per fare anche qualcos'altro. E sono arrivata alla filosofia attraverso proprio la musica, perché la scala, questa attività musicale intensa che ho fatto per tanti anni, la conoscenza di grandi direttori, di grandi solisti, di un palcoscenico internazionale, i viaggi che ho fatto col teatro, mi hanno incuriosito proprio su quello che facevo, sul significato della musica, sul messaggio culturale che la musica dà nel mondo, sul suo peso dal punto di vista anche filosofico come forma di linguaggio. E quindi solo dopo che io mi sono posta delle domande sulla musica, ecco che sono approdata all'Università Statale di Milano, quindi io non solo sono fuggita purtroppo dal mare giovane, ma poi dopo una volta a Milano mi sono veramente immersa in questo mondo milanese che offriva tutto, perché insomma diciamo che non c'è cosa che non offra questa grande città. Ma senti, queste tue esperienze si ritrovano anche in quella che è la figura del maestro, che è una figura meravigliosa questo Smotlack, perché è motivante come dicevamo prima, ma nella sua vita personale è borderline, diciamo al di là della legalità. Chi è questo Smotlack? Descrivicelo un po'. Allora, questo Smotlack è sicuramente un personaggio unico, particolarmente interessante dal punto di vista della personalità, come appunto lei ha detto, piuttosto al limite dell'accettabilità, senza peli sulla lingua, senza, non si faceva remore su nulla, né sul linguaggio, né sul comportamento, un tabagista, uno scommettitore, insomma veramente un personaggio quasi da leggenda per alcuni aspetti. E soprattutto ai miei occhi era uno che era gli antipodi della mia famiglia, era gli antipodi del mondo in cui io ero cresciuta, in cui io veniva educata, per cui rappresentava una sorta di contraltare, contraltare, contraltare in tutti i sensi. E come tale, essendo io una ragazzina, all'inizio mi ha stupito, mi ha spaventato, mi ha inquietato, mi ha fatto sorgere anche tante altre domande sull'umanità, sui rischi, sulle insidie che c'è il mondo, perché insomma questo andava, scommetteva sui cavalli, quando qualcuno non studiava lo mandava dal tabaccaio, se poteva lo insultava senza peli sulla lingua, per cui io mi chiedevo che razza mai di personaggi si potesse rincontrare nel mondo. E da questo punto di vista... Quindi lui è reale, tu descrivi una persona che è reale. Sì, io descrivo una persona che è stata veramente così, è stata veramente al limite, ha vissuto con molta intensità la sua vocazione, che era comunque quella di suonare sicuramente, ma anche quella di insegnare a questo punto e di usare forse i suoi allievi come cavalli su cui poteva scommettere a sua volta. Esatto, infatti... Io credo... No, dicevo che appunto tutto il tuo romanzo è affascinante, c'è questa meravigliosa storia di questa ragazza che supera gli ostacoli, che incontra gente abbastanza particolare nella sua vita, ma il bello del tuo romanzo è che poi si arriva a un finale, e non lo diciamo ovviamente, che ti lascia a bocca aperta e che stravolge un po' tutta la prospettiva con la quale il lettore ha seguito il sogno di Cecilia. Non lo diciamo ovviamente, ma invitiamo ad arrivare a questo finale incredibile. Io sono rimasta davvero così, ho detto, Toto, guarda che genialità. Ma ecco, diciamo solo questo, naturalmente non si dice niente, però io vorrei dire questo, essere cresciuta da un individuo di questo tipo, aver assimilato quello che lui sapeva comunicare dal punto di vista musicale, ma anche umano, aver capito che in fondo il suonare, la musica è un modo di vivere e di affrontare le cose, anche di interpretare la realtà, naturalmente tutto questo io l'ho assimilato, io l'ho assimilato, per cui era chiaro che poi all'interno della mia vita qualche aspetto di questo io dovevo farlo fruttare dentro di me, perché ormai faccio parte della mia visione del mondo e non me ne sono mai pentita e non me ne pento neanche adesso e però è una sorta di tributo di riconoscenza a un tipo di insegnamento che questo maestro mi ha dato e che peraltro assolutamente in linea con il suo comportamento, con il suo stile di vita è scomparso, nessuno sa più niente di lui. Sì, perché chi leggerà o ha letto questo libro lo sa, l'imprevedibilità di questo personaggio. Alice Cappagli sta scrivendo qualcosa? O ancora no? Ecco, questa è una domanda molto immerazzante. Lasciamola perdere allora, la sorpresa. Ci sta provando. Allora, Alice, grazie mille. Ci rivediamo quando la tua prova sarà terminata in qualche bellissimo romanzo. Grazie mille. Grazie. E ricordiamo il romanzo che abbiamo presentato Ricordati di Bach, edito da Einaudi e scritto da Alice Cappagli. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. 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 E Cronos vi dà appuntamento al prossimo libro.